Rifiuti interrati sono stati rinvenuti nel corso delle attività di bonifica da ordigni bellici eseguita dalla ditta GMACSRL per conto di ANAS in corrispondenza di due terreni nell'ambito del primo dotto dei lavori di costruzione del collegamento veario esterno all'abitato di Alcamo tra le strade statali 119 e 113. Si tratta di terreni oggetto di recente emissione in possesso per l'insediamento del cantiere da parte dell'ANAS che però non essendo riuscita a rintracciare mediante ricerca anagrafica i proprietari dei due terreni neppure in fase di procedura d'esproprio ha quindi chiesto al comune di Alcamo di pubblicare due rispettive note all'albopretorio comunale. Tali rifiuti interrati come scrive l'ANAS allegando queste immagini pubblicamente visionabili anche nella sezione albopretorio del comune di Alcamo sono stati rinvenuti a una profondità di qualche decina di centimetri dal piano di campagna della quale natura e consistenza in corso la completa definizione. L'area indicata è stata delimitata con apposita recinzione proseguono entrambe le note in modo da interdirne l'accesso. L'ANAS specifica che la presenza di tali rifiuti vista la collocazione in profondità non poteva essere contestata nei verbali di stato di consistenza e emissione in possesso redatti il 25 luglio 2023. L'ente tiene ad evidenziare che tale ritrovamento interferisce con le opere in corso di realizzazione e che la rimozione dei rifiuti rinvenuti è strettamente a carico dal proprietario. In questi casi, trascorsi dieci giorni, la società che esegue gli interventi di bonifica provvede alla rimozione allo smaltimento addebitando, conclude ANAS, Ioneri derivanti a valere eventualmente sull'indennità aspettante. L'appalto per la realizzazione dell'asse viario di collegamento tra le due strade statali 119 e 113 prevede un investimento complessivo di 33 milioni di euro, dei quali 242 mila euro destinati al monitoraggio ambientale e 93 mila euro destinati al monitoraggio geotecnico. La consegna dei lavori del primo lotto è stata ufficializzata nel mese di agosto scorso. Grazie a tutti.